Ciao ragazzi, buon sabato pomeriggio! Allora, mentre ci prepariamo ad accogliere Ciucu Eze lunedì sera, martedì, in quel di Milano, nella nostra casa, nella casa del Milan, nella casa della prima squadra di Milano, c'è anche da proseguire a picconare ferocemente la narrazione dominante, perché oggi sono uscite delle cose molto interessanti su quello che è il circo mediatico, che oramai così palesemente penso stia emergendo, anche grazie forse a canali come il mio, che denuncia queste situazioni da parecchio tempo. Adesso ne parliamo, prima vi ricordo like al video per far girare il canale, per far girare il video, per far crescere, perché è gratuito, perché non costa nulla, perché la metà di quelli che guardano i video poi non mettono il like e invece il like mi fa tanto comodo. E ovviamente l'iscrizione per superare la barriera oramai vicinissima degli 8.000 e per arrivare a 10.000, velocemente. Vi ringrazio, a prescindere e non dimenticate la campanella per le notifiche. Quindi, prima la cronaca. La cronaca dice che Samu Ciuqueze sta arrivando, cioè sta arrivando, è conclusa, operazione conclusa, solo da definire alcuni dettagli burocratici sui bonus. 20 più 8 di bonus, quindi a bilancio vanno i 20. E soprattutto il Villareal sarebbe interessato ad avere in prestito gabbia. Probabilmente operazione slegata da Ciuqueze, quindi che si farà indipendentemente da quello che è il passaggio di Ciuqueze al Milan, che oggi Samu non è stato convocato per la partita del Villareal, quindi altro mattoncino che è insomma in strada, il nigeriano verso casa Milan. Quindi vediamo gabbia se è in uscita e poi ci saranno le altre uscite. Si parla di Rebic, si parla di Orighi, insomma adesso dobbiamo sfoltire un po' la rosa. Poi penso che ci dedicheremo a quei due o tre tasselli che mancano per completare un puzzle che fin qui è stato veramente da applausi. Prima di parlare della narrazione dominante, prima di cercare di proseguire l'abbattimento di questo muro di narrazione dominante che c'è in Italia, volevo due parole su Maldini perché ieri ho fatto un bel elogio del mercato del Milan perché è sotto gli occhi di tutti, solo gli amici di Zazzaroni possono cercare di censurare, cancellare, mistificare quello che sta facendo il Milan sul mercato, quindi giusto, giustissimo e col senno di poi probabilmente si intuisce anche il perché dell'allontanamento di Maldini e con questo tipo di filosofia societaria che abbiamo visto in opera nell'ultimo mese. Questo però non deve andare a offesa di quello che è stato il lavoro di Paolo Maldini perché Maldini in quella fase storica ha fatto un ottimo lavoro perché la base di questa squadra, quindi i Tomori, i Teo, i Mignon, i Leao sono frutto del lavoro anche di Paolo Maldini i Tonali, i Tonali che ha consentito che entrassero gli 80 milioni che sono serviti per fare questo mercato fino a questo momento è il Tonali che Maldini ha imposto di acquistare per 15 milioni perché ci credeva, altri non ci credevano Tonali quindi il Tonali comprato a 15 ha consentito poi con la cessione 80 di far arrivare questi giocatori che stiamo festeggiando in questi momenti poi i veri festeggiamenti dovranno essere quelli che il campo ci dirà e ci regalerà però ecco io direi che quel Milan di Maldini era arrivato a uno snodo e questo snodo più moderno, più legato magari ai dati, meno sentimentalista faccio un esempio, io credo che se a Paolo hanno prospettato che per rinforzare il Milan ci volesse la cessione di Tonali io credo che Paolo abbia detto no perché? Perché è nel suo carattere, nel suo vedere il calcio, nel suo modo di... nel modo in cui lui ha vissuto il calcio fino ad oggi ma il calcio sta cambiando molto velocemente e quindi forse qualcuno al di fuori che viene magari da lontano e non è... non ha diciamo i sentimenti che diciamo inficiano un po' le scelte magari ha capito che quel sentimentalismo di Paolo non poteva andare bene in questo momento storico del Milan perché è chiaro che sarebbe stato un mercato diverso senza l'accessione di Tonali avremmo avuto uno o due acquisti magari dei prestiti prestiti con diritto insomma sarebbe stato tutto molto più difficile e complicato non per colpa di Paolo ma per la visione del calcio che ha Paolo in questo momento che probabilmente non era più in sintonia con il resto del... della società che magari viaggia anche un po' più avanti di noi da questo punto di vista no? quindi per dire la... la sostenibilità deve garantire poi la solidità del club e quindi si spende quello che si può incassare tutte cose nuove no? da un certo punto di vista per una società italiana e quindi io credo che la scelta probabilmente di separarsi sia stata proprio dettata da questa diversa... diversa visione che c'è in questo momento del calcio tra quello che era la visione di Maldini e quella che è la visione diciamo dei Furlani, dei Moncada sotto la regia ovviamente dei Red Born non è che sia meglio uno o sia meglio l'altro in quel momento probabilmente era giusto e avevamo bisogno di uno come Paolo che ci guidasse ma forse in questo momento in cui abbiamo il vantaggio di essere più solidi degli altri economicamente più in rampa di lancio degli altri avevamo bisogno di una ventata di novità che non tenesse per questo momento in conto il sentimentalismo e andasse oltre andasse un attimino oltre io la vedo così la vedo così e quindi non rinnego assolutamente Paolo Paolo sarà sempre un un pilastro del Milan noi possiamo ancora permetterci di essere sentimentali non dobbiamo guidare una società che fattura quasi mezzo miliardo però dobbiamo anche capire che in questo momento storico abbiamo un grosso vantaggio rispetto agli altri ed è il vantaggio della solidità della organizzazione bisogna sfruttarlo e quest'anno penso con questa campagna acquisti lo stiamo facendo spero che commentiate queste parole se siete d'accordo anche se non siete d'accordo ovviamente però credo siano una sintesi dell'essere milanista in questo momento cioè di non rinnegare ciò che è stato Paolo ma di capire che forse in questo momento un'altra prospettiva è stato giusto valutarla per quanto riguarda la narrazione dominante da abbattere nella copertina trovate ciò che ha postato oggi Lukaku allora noi abbiamo questa narrazione dominante che è un nemico un nemico da combattere che prima ci ha detto che Lukaku era già dell'Inter non c'era problemi che il Chelsea non poteva fare il prezzo perché il prezzo lo decide la marotta poi abbiamo scoperto che Lukaku è stato abbandonato abbandonato cacciato praticamente dall'Inter perché affrontava con la Juve e con il Milan ovviamente qui abbiamo sempre detto che non è una cosa credibile non è una cosa realistica non è una cosa a cui si può credere senza passare per Babbi ora dopo la cacciata del come si dice come l'hanno chiamato quelli della curva vabbè comunque quello lì come l'hanno chiamato loro infame mi sembra dopo la cacciata del cattivo dell'infame adesso c'è la telenovela di lui che prega di Inter salvami perché se no non ho un posto dove giocare non voglio andare in Arabia e quindi qui ecco diciamo che per concludere questa telenovela ci vorrebbe ok magari la complicità di Lukaku ma ci vorrebbe anche la complicità del Chelsea che dovrebbe farsi trattare come una banda di rimbambiti totali quindi o questa è una versione la telenovela che si conclude con la banda di De Celebrati del Chelsea che regalano altra volta Lukaku all'Inter oppure come lascerebbe intendere il post di Lukaku oggi e incominciano a la narrazione dominante inizia a vedere le prime creppe nel muro perché abbiamo avuto Skriniar che appena arrivato al Paris Saint Germain ha raccontato che una volta che dall'Inter sapevano che lui non avrebbe rinnovato il contratto sono cominciate a uscire un sacco di balle sui giornali quindi giornali compiacenti la seconda è Perisic che commenta il post di Skriniar con un fottuto Zeta chissà chi si riferiva con la Zeta fottuta Zanzara o fottuto Zanzibar o fottuto Zuzarellone o fottuto Zoff chi sarà questo fottuto Zeta puntini 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 di Perisic Poi abbiamo Brozovic che il giorno che viene messo alla porta da occhio dei lince ci mostra un bel circo facendo intendere ovviamente circo inter oggi arriva Lukaku Lukaku dice quando l'odio non basta più sostanzialmente si incominciano a raccontare le bugie sempre con un giornale compiacente qual è questo giornale io vi dico solo il colore rosa il giornale rosa questa è tutta narrazione dominante direi che è inequivocabile quindi va battuta assolutamente in un modo o nell'altro ma parlandone è un ottimo modo parlandone diciamo che è un bel modo di combatterla questa narrazione dominante e soprattutto iscrivendosi ovviamente al mio canale è un altro ottimo modo di combattere la narrazione dominante che ovviamente su un altro fronte ha il fronte di cui abbiamo parlato stamattina ma su quello vi invito a vedere il video di stamattina di Zuzzurellone chioma fluente Zazzaroni ballando con le stelle che siccome gli dà fastidio dare notizie positive sul Milan preferisce addirittura non darle cancellarle così risolve il problema è una narrazione dominante anche quella quella è più diciamo una personalizzazione della narrazione dominante la vera narrazione dominante è quella che secondo me è proprio stile organo di partito cioè proprio io ti do la velina e tu devi far passare questa idea devi far passare questa convinzione e la vedo molto più sul fronte del giornale rosa che con delle tempistiche veramente incredibili a seconda di dove deve indirizzare l'opinione pubblica in questo caso nera surda e crea il mostro in prima pagina no e questo però scusate devo rifiutare una chiamata questo però si scontra poi con i giocatori che capiscono bene come funziona e quindi abbiamo Skriniar Perisic Brozovic e Lukaku capiscono cosa significa essere dentro una narrazione dominante ragazzi aspettando Ciukueze alla prossima forza Milan sempre